grazie dell'acquisto grazie per l'acquisto effettuato presso playstation store di seguito sono riportati una copia dei dati dell'acquisto e un collegamento alle relative condizioni si è pregata ma perché sono femmino vabbè di stampare queste informazioni e di conservarle in un luogo sicuro per poterle consultare in un secondo momento numero ordine guantano nome simoneschiano ma what aspetta idio non idio online aukobobo ma io non ho fatto manco un accenno fatto un acquisto che acquisto dovrei fare scusa scudi ho fatto la cosa non so passiamo vabbè raga ditemi come sta andando la live perché l'audio è buggato non so perché cioè non so se è baggato luca vedi c'è baggato luca vedi c'è baggato luca vedi c'è baggato luca vedi c'è baggato l'audio della light luca vedi c'è baggato l'audio della light come fermi con la camera vedi c'è baggato l'audio della light buongue va to Primre comunque ho fatto questo è che meglio si questo è è Magari Fortunet Ma si sente bene l'odio? Si sente bene l'odio Ma a noi non si sente proprio E poi quando parliamo Eh lo so Ma a noi non si sente proprio E poi quando parliamo Eh lo so Oh lei va la terra che fai Ok Non c'è nessuno, ma sentire questa cosa, è nulla, ho il mondo ovunque, eppure il successo non c'è nulla. Hai un senso notico? Sì. Babbo dove? Ne ho un ascolto, ok? Eh, babbo! La gente che chiama? Ma che cazzo? Un terzo qua! E non tengo un'arma! Non tengo un'arma! mamma rogarpa ma porca troia ogni 3 secondi una volta mia amica una volta quell'altro un ferico giù fatemi una vita arriva raga arriva raga bello avete cura raga ah gg ah ah ma luca è stato finito eh vengo a tenere una volete pigliare la scheda si si ora la vengo a prendere scusa andiamo a prendere la scheda dai ma che cazzo guarda che pezzo di merda ah boba gioia ma zettano lì fa una partita buona oh ma cazzo non viene mai nessuno non viene mai nessuno io diciamo che farò solo live forse ma voglio ci serve il quarto membro raga tra l'altro comunque se volete fare il provino scrivetelo nei commenti 1v1 contro di me diciamo contro tutto il team e poi vediamo un po' come giocate secondo me è meglio fare a squad meglio fare a squad e vediamo come andiamo eh no po' però un provino cioè comunque devi fare devi vedere prima come gioca così ma tanto o poco? tanto ma non è che devi fare ancora cazzo lui lui eh ehi frate eh frate t'ha posto? che cosa? t'ha posto t'ha posto perchè? eh no sai come ti vedo ho sentito la tua mamma che Luca quando succedono queste cose stacca le cuffie per favore ma da quanto tempo che da quanto tempo ti fa male scusa? eh da da un'ora ah t'ha posto no c'è come ti spieghi per farmi la tua mamma che ti fa male scusa? il gonfio, il pallone il tallone? che quel nord in merda mi ha dato un pistone numero 9 raga io vado qua a buon fa niente non me lo pensavo pure io non ti preoccupa cioè quelli a me passi no io sono stato giustato addirittivo o cura cura hai l'ambalazzo? o devo cercare di venire a terra un gran pezzo di schifo mi hai mai avviato me ssh ssh cura 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 adesso adesso ah ecco adesso ssh basta che tu sei senza c'è faccio ma se lo prendi qui no ssh mamma tu spamma e mi culo o è la madonna luca sono morti a oa però che cazzo c'è una cosa incredibile o ma sciuttato ma sciuttato vabbè ma stanno con la di prima ora a me ma sciuttato ah e leonora di simone voglio aspettare sto vedendo uno a cui fare il provino grazie 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 Stai a zero. Cosa c'era? E' un po' di spazzina E' un po' non è un po' di più E' un po' di più E' un po' di più Oh è nemmeno un po' questo pezzo di me E' un po' di più No, non lo fa E' un po' di più 幼oghe Ma non lo fa E' un po' di più Però voglio farvi fare che hanno lasciato la squadra in tre eh eh fra aspetta vogliamo allungo vedo se ti spondi così vedo anzi oscar oh vogliamo fare oscar è vero eh aspetta se ci tocca ma che cazzo sta online non mi risponde non mi risponde malati mi madre ok è be' se non non Io voglio un mascar e non mi risponde Cioè sta online e non mi risponde Che pal Oddio C'è la deriva estiva Stigliante prima Quale sarebbe? Ah boh No fammela mettere almeno la deriva No è vero non ce l'ho Ma non tengo un cazzo su sta accanto Luca 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 Grazie. 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 Vabbè. Uè Luca vuoi mettere pronto? Cioè guarda qua il mio armadietto più povero di questo non c'è niente. Cioè io prima c'avevo le skin tutte belle o invece ho dovuto cambiare account. Fra mi ha scritto un DB Gamer 81 Bobo ti vago 75 euro al mese se vieni a giocare nel mio team. DB Gamer 81 Guarda se vuoi possiamo fare il provino. Cioè ti possiamo fare il provino e ti facciamo entrare nel mio team. Ma nel tuo non per cattiveria però già sono nel mio team. Poi non so se stavi scherzando o meno però. Dove andiamo? Ma che ha detto? Ma a me non me ne fotte dei soldi. Io mi voglio divertire. Bravo. No ma a parte gli scherzi. No ma a parte gli scherzi. Io ho creato il suo canale per farli divertire. Io ho creato il suo canale per farli divertire. Pure se non è manco c'è manco c'è... Bro. Vediamo il suo cuore Con il suo cuore. che porta a casa arriva oddio io voglio mangiare scassare la partita a bu secondo me ci muoio anche io a terra eliminato oh porca troppo raga una mano è pure a me oh gente a terra c'è altra gente stai zitto terminato oh lascia l'unica cosa lasciami questo ok piglia di tutto no c'è solo questo qua di solito ce ne stanno un botto di banane qua sotto eh infatti c'è a buon botto ah no è vero non posso neanche ah scudo vieni qua ah scudo vieni qua guarda che piaccio a te la skin la skin si la bananita scuola calcio cosa l'acqua gente gente che cazzo fa fangu la mano fra una mano Eh, uno sta venendo un attimo Eh, però mamma Dove sta Scudieri? È morto Aspetta, fammi vedere un attimo Oh, ma che boh Fra, io te l'ho detto gentilmente Non ho usato né a puttane mamma E né Vaffanculo Ma, ma Ma, e questo significa Vivere nel mondo di Youtube Oh, fra Appena aperto il canale Già due insulti Senza dire niente Ma se vuoi DB Gamer Puoi venire pure a giocare con noi, eh Mo Ma al quarto io non sono interessato, eh Non mi fotte che mi paghi, vabbò Anzi, vuoi sapere che faccio? Aspetta, 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 aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Manciam mai? Manciam mai? Bani bari un pezette In una zona Manciam mai? Bani bari un pezette No 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 Ma proprio scimità no Cioè io sono entrato Cioè siamo Tutti In questo, cioè tutti Io, te E Luca no, siamo in questo Io ho detto no Non voglio venire No, quello subito A buttare la mamma Vabbò Vabbò Cioè Scusate Cioè A Gerusalemme Cioè Vabbò Cioè Ma partami Cioè Ma partami Ma oggi ma sei là Ma una, 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 una Ma oggi ci vediamo al nostro canale Cazzo Cazzo Fra, 100 e da me Ah, 100 e da me Ah, chi 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 Va spommato con la mitraglie Cioè Ma che è il posto Fra, ma hanno stuprato male Fra, ma Scusate Ma 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 Scuto 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 Forse mi vuoi venire a arrestare qua Forse Eh sì Oh, mi vuoi venire a arrestare Però E fa un presso E fa un presso E fa un presso Vieni qua, vieni qua No, non ti preoccupare, non ti preoccupare Fa niente Se la perdiamo questa qua Non fa niente 30, 28 26 22, ok Oh, hai un'arma For me Cioè, io ce l'ho l'arma Però c'ho solo una pistola di merda Oh Grazie Scudo, scudo Scudo Vai a vedere che è stato detto Come si chiamogli? Di bicoso Come hai detto? Io non te lo dico Eh, fra Allora, che ha detto? Ha detto No, no, è scomparso Che ha detto però? Comunque aveva detto Scudo con campata Perché ti avranno ragazzi due Vabbè Ah no, perché forse se stava nel DP Forse lo conoscevo Forse Invece il DP Va Ma ragà Ma che c'è una forza? Oh, io mi diverto Cioè, più insultano Più mi diverto Non mi diverto Cioè Ma che fa? Ma che fa? Oh, io gli ho detto E poi io gli ho detto Semplicemente Non voglio Cioè, non entro nel tuo team Perché io ho già il mio team Se tu vuoi venire con me A disposizione Aspettate Aspetta, aspetta Faccio una mappa Preso Che cos'è preso? Allora Squadra Non ce l'hai Evitare a tutti La squadra rossa Hashtag Non ce l'hai Vabbè Tuffo Che è tuffo? Aspetta Aspetta Armati solo di bombe d'acqua I giocatori Combatto per la vittoria Facciamo Un po' di creativa Raga Facciamo Chi è che c'è la mappa Dello skirmish No, no, no Aspetta Ok Scudier Ah, cinese Ah, sì Quello là Ma bu È cinese È una mappa Bellissima Cinese Cinese Allora Oh, tra l'altro DB Gamer Allora Uno, due, tre, quattro Allora Primo Messaggio Bobo ti pago 75 euro al mese Se vieni a giocare Nel mio team Io gli ho risposto Quello che gli dovevo rispondere A puttane mamma Poi si Forse non so Che vuole sapere Si è scusato E poi ha detto Sto cercando Un quarto nel clan Un quarto nel clan E ti pago pure Poi Gli ho Ho rifiutato Ho rifiutato A puttane mamma Va Fa culo Vabbè Vabbè Ma appunto Ma pure se mi pagano Io Entro nel team Ma non voglio i soldi Cioè non me ne fanno i soldi Cioè non me ne fanno un cazzo i soldi Tutti contro todos Tutti contro todos Aspettatelo Aspettatelo No la scudier ha proprio preso di mia oh io faccio schifo col ceco e io sto dentro qua quindi mi piglio le cure aspetta un attimo signor scudier raga però pochi fight non è che siamo tutto il tempo qua oh che bot cavo preso guarda che pezzo di schifo oddio 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 addio Grazie a tutti 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 No 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 Che cazzo Ecco Lui Lui No 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 A poco. Uè Ah Sesto XXX Aukeluigi Che botta Ah che botta E quando finisci? Ma sei partita A A A A A A E' un'altra parte. ci godo 100 e 100 prima non lo so oh devo caricare no è un pezzo di merda buona guai che usciamo dalla da sfamato aspetta una bella no dentro a me no 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 ma non a me ma perchè mi gira le scatole mi gira le scatole ma sta ancora facendo la live quando finisce finchè non stacco finchè non stacco oh 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 Ma no, che pezzo di merda Ma no, a me che mi girassi Oh, io provo di blind Ma no, ma Luca mai, cazzo tua, mai L'ho piato sul culo Raga, facciamo l'ultimo focchio L'ho piato sul culo, lo io ti giuro E perché i cavalli push Ma tengo la scala contro Ma no Ja, ma perché colpisco sempre gli oggetti Ma non faccio proprio cosa fare col ciclo Ma no, è bello Ma no, è bello Hello, motherfucker Apriamo la particena La particena A me che mi girassi Sfale de merda Fammi di aiutare Oh, guarda sti pensi di merda No, ho sbagliato No Aspetta, fammi ricaricare Appunto, fammi fidare Oh, ah, ah Hai dovuto samba shot Ragazzi, devo andare a pulsare E' vero E' vero E' vero, no Però non mi girino No, non mi ha fatto Sta bene Non mi ha fatto tutto No, non mi ha fatto tutto No, non mi ha fatto tutto Guarda, non è io Ehi No, Luca Che faccio Ah, è più buono Lui ci t'ho salvata Adio Mi vede prima se ce l'hai tua Poi lo scassi Ah, Luca Alliamoci, vai Vai tutti contro Stu Auca Luigi numero 10 Pacca Che bobo Eh, mamma Il traditore Vivi Sto sari di merda Oh, vedi Mi gira sempre se scale di merda Ma porca trota Oh, bella raga Bella Bella No Che senza costruire Pararsi il culo Attenzione Il look Senza Ma era troppo bello Ieri Wow, è giù Ma l'Italia è uscita È uscita per il biscotto Biscotto Ma direi Alla fine Non l'hai spiegato più Alla Praticamente è quando due squadre Gli serve il pareggio per passare E quindi non si fanno con la vicenda E giocano solo in difesa Chi ha la palla E chi non la palla E chi se sarebbe un biscottino? Un biscottino Eh E chi ha? E gli dice Allora Che le belle pittone Che le belle pittone Che le belle pittone Che le biscottino Ecco Che leppo Che leppo Raga Io sono da 8 kg Che non muoio Ma che po' Tu Ah che bot Devi Morire 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 Rire Oh ma Luca è mortale Capodacchist Oh Fra Luca è mortale Tengo 100% È immortale Bella grazie Luca Mi ha fatto scienza E che putacchist Toto Toto Allora Allora Passiamo Zero Visualizzatori Bella raga Mi raccomando Continuate ancora così Nato Io Raga Buon noto Andiamoci a fare un po' di Di che cosa? Un po' di seghe Grande Luca C'è noto un po' di Death Hunt Oh ma ti tacchiò è quello Poi te faccio cadere Fa un culo No No Gigi Raga Abbandonata Io abbandonata Capodacchist Io E' Ehm 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 Il talone è Ehm Fai riveder Sì Ehm Non so Sì Compa Fa Faccio Ehm Non mi Faccio Ehm Raga Ma io Amo Vedo V Raga Amo Vedo Ehm scudo muoviti guarda ha fatto male nuovo iscritto db gamer grazie db gamer ah sarebbe sarebbe quella che mi aveva preso a paroface comunque grazie grazie per l'iscrizione ti voglio bene dici bobo ti voglio bene db gamer oh ragazzi mamma non stiamo salendo ho già 20 iscritti in un giorno ah c'è ma troppo forte bobo bingo dove andiamo? che cosa dove andiamo? ha fatto foto? si muovetevi no raga ma come si fa a fare la storia su youtube? boh devi un attimo spippettare e poi la fai ti metto direzione lobby allora roca entrate da me roca entrate da me roca entrate da me Quelle cose tipo i tag No i tag Tipo fammi una domanda Perché praticamente a me Io lo so fare però non mi va Io lo so Non c'è davvero, non c'è la fila di attacca No, 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 no. All right. Ehi Bobo, ti vuoi ovi? No, aspetta No, sto facendo una cosa, aspetta Emilia, questa partita del sacco, Bobo Beh, non è che mettono pronto schiatti, non schiatti comunque Eh Bobo, io resto finché tu non stacchi A te pong pongle e rag logo A te pong pongle e ragazzi Yeah Ok, che pong pongle e ragazzi A te pong pongle e ragazzi miglior comandi vocali Google Assistant ok Google Amazon Echo ciao Alexa Siri Panda Panda Parti porcota l'avete capita l'avete capita va ma va a giusti proprio i tusci sono tutti quanti bobo si mi hai visto perché non ti hanno messaggiato perché non ti hanno messaggiato un'arma non ha dirvi scappa scappa and λ scappa scappa Volta Ho fatto un miracolo Fra questo mi ha ucciso Ha 3 di vita questo No vabbè Va giù Va buono Non fa niente Wow Luca 3 di vita Fra Ma quello mi ha shottato con una pistolina Pegliati la bendice Va buono Oh vanno a prenderla No pigliala 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 Oh dai va giù La partita è ripresa Ricordi quando stai nei Fnatic Però il team di Caruso è proprio forte Noi diamo Quando mai fra Ma perché Ma pure noi siamo forti Cioè Noi in quel senso però Perché Cioè Noi non abbiamo ancora trovato Il quarto membro Se troviamo Se troviamo Se troviamo Oh aglio devo staccare Sì Aspetta L'ultimo Ed è stacca Scusa Lo facciamoci una coppia Ciao 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 Luca Che vogliamo fare Aspetta Noo Nooo Oh escudo Aspettate, andiamo a Kicks, allora, ecco qua, scusate, allora, se mette Shutter al gioco, forse, scusate, prova a mettere cosa, ah, metti Shutter al gioco, vedi un attimo, ah, lui non ti sento proprio, allora facciamo una cosia, giochiamo da cosia, da un attimo dal telefono, ma perché fa questo fatto, che cazzo, ma quanto odio il Nat, madonna mia, vabbè, con calma, scusate, oh, scusate, oh, scusate, oh, domani a che ora ci stai, ma giochi, mattino pomeriggio, cioè mattino sera, ma non è che siamo scarsi, che manca il quarto, fra, manca il quarto, perché noi, gli e te, più o meno, diciamo che lo diamo il supporto alla squadra, Luca, cioè, gli e te siamo, diciamo, i più forti per adesso, non per vantarsi, poi, c'è Luca, che ci dà almeno supporto, infatti su questo noi riusciamo ad affrontare team, però non riusciamo, cioè, ci serve un altro giocatore, diciamo, eh, ma non è che subito lo trovi, subito, 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 vabbè, scusate, a terra, è proprio, c'è punto, oh, hai gli scudini o bende bella oi, stai a ca soi, spBarna avendo io oh, scusate, ah, scusate, spBarna fredto, scusate oh, scusate, scusate oh 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 i don't want to Aspetta, aspetta 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 69 Bella Vai Pusha C'è altra gente? Te lo dico Vieni qua, ci facciamo un campfire Gente? Arriva Aspetta, busso io, ho due spam Ma che cacchio Fra, uno è bianchissimo Fra, no, 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 non ti preoccupare Allo, uno è scarso E uno è Non è forte Soltanto che a me mi hanno bloccato Sti filtri di merda e quindi Sì, sì, scusa Aspetta, vieni qua Ce la fai Vieni qua, mi resti, mi resti qua Fra, resta qua Qua Guarda dove ho messo il segnalino Ce la fai Non c'è nessuno Non c'è nessuno qua Ce la va, l'ultima Oh, giù, la va, l'ultima Tu devi stacca Ah, buono, che ti fa Ah, bovero, io mo la termino La live Vabbè Fatto stare Abbiamo passato un bel po' di tempo insieme E niente Ciao ragazzi Bella raga